Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per incidente e rallentamenti tra Monte San Savino e Arezzo. Sulla FIPILI per lavori di messa in sicurezza sul viadotto Ponzano, due chilometri di coda tra Empoli ed Empoli Est in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la A1 di Firenze in Pruneta. Chiudiamo con i treni, ricordiamo che per lavori la circolazione tra Pistoia e Montecatini Terme è sospesa fino al 31 agosto, servizio garantito con corse bus. E per lavori sulla linea Faentina è sospesa fino al 1 settembre la circolazione tra Borgo San Lorenzo e Faenza. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!